Scusate, ma ti sei messo qualcosa di sopra, la prima cosa che hai trovato nell'arma Che che è? Mi sto semplice dentro Eh, il problema è fuori Allora, scusate, qua c'è una discussione in corso Abbiamo detto che le decisioni riguardo a nostra figlia le prendevamo insieme Eh, insieme come dico io? No, non funziona, allora spieghiamo Spiega e vedi chi c'ha ragione Nostra figlia Sara ha litigato con un bambino della sua classe Il figlio della signora Giovanna Ma tu, da genitore, che fai? Devo andare a picchiare signora Giovanna Ma no, no Quello è facile, che c'è no No, tu, no, no Come no? Tu devi stare al di sopra Eh, io sopra e lei sotto Bu, 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 è una scomba di sangue Non va bene, non va bene Sara deve imparare a difendersi da sola Ah beh, questo è vero, ma c'è ragione Ah Nostra figlia deve imparare a difendersi da sola Esatto Io subito mi nevozisco Subito parto da quarto Eh, arrivate cari baldi Io mi devo calmare, basta Io ora mi calmo Ah, e così devi fare E per calmarmi Devo andare a picchiare signora Giovanna Ma no Chiara, ma che ci mette a far cadere due denti da bocca a uno? Un minuto, un minuto e torno Allora, innanzitutto con la violenza non si ottiene mai niente E poi sai come va a finire? Con il marito della signora Giovanna fa carriare a me Rien da bocca Allora perché tu non mi capisci Quello mi capisce, ok? Perché tu non mi odi Mi devi odere Ah, rapi le vecchie e odimi Ma io ti odio, ti odio Ti schifo e ti odio quando parla così Allora, il fatto che è successo è grave Ma che gra... È gravissimo Cioè non è successo niente Niente di grave E invece no, il bambino ha avuto il coraggio di andare vicino a nostra figlia E di dire questo giocattolo è mio Perché io sono maschio e comando io E questa non è che... E la povera bambina Ma che ti asciughi le... Ti asciughi le lacrime che non ce l'hai Tengo manco fazzolette veramente La povera bambina in difesa Non ha tenuto nemmeno il tempo di reagire Giusto il tempo ci rarro i camici in bacio Ma che dici? Ma... Lei hai detto che non si fa? Io ce lo devo dire Loro ci devono dire al figlio che è inutile che si sbatte Perché tanto comandano le donne Ma eh, guarda Ma che comandano... Ma che applausi? Che ragionamento è? Comandano le donne? Ma mica sempre Dipende Ma perché a casa nostra comandi tu? Allora non devo picciare signora Giovanna Ah, già vattene a te Allora da quando è mondo in mondo Hanno sempre comandato le donne Da D'Amedeva La sai la storia di D'Amedeva tu? Ma certo che la so Allora visto che non la sai Ma te la conto io Ok Ma per raccontare la storia si deve truccare Che ti posso lo specchietto che non ce l'ha? Veramente tengo anche zizio Allora Il genere umano Vedete se vi trovate Il genere umano discende da D'Amedeva No, discende dalle scimmie No, che è la famiglia tua Io sto parlando in generale A D'Amedeva che vivevano in questo paradiso terrestre Pieno di alberi di frutta Dove c'era l'arancetta L'uliveta E la pereta No, che è l'essord E' sempre la famiglia Tu non ti devi mettere in mezzo Voi dici che io so Ma non si chiamano così D'Amedeva camminavano in questo paradiso terrestre Coperti solo da foglie di fico Che l'ha da fare? Che l'ha da fare? Ma sembra fatte ridere questa partella Pur quando me la raccontavano No, allora tu Sai perché? Immagina a me te, no? A camminare nel paradiso terrestre Coperti solo dalla foglia di fico Non datti già A te te bastassero pochi prezzemal Adam ed Eva In questo paradiso Dove c'era Dio Dio disse sfogate E Dio disse sfoga Fate quello che volete La cosa importante E' che non toccate la mela Eva che voleva La mela Si inizia nelle orecchie D'Adam e dice Venga madame Prendimi la mela E che ti costi? Una bacchitella E Adam diceva Eva ma dobbiamo passare un guaio Sa tanto frutto Mangiati un giuo Un manga Un avvocato Neanche uno Indovinate? Neanche uno No Eva voleva la mela Tanto che fece Tanto che disse Convinzi Adamo A prenderle la mela Ma perché? Che gli disse? Adamo Se non mi porta mele Squirt da patano Quindi chi comanda? Le donne Quindi tra i due bambini Chi comanda? Sara Ma l'hai inventata tu La storia Sì tu mi senti vibrare Chi è? Ah la signora Giovanna Eh calma Ma mi odde Mi odde Pronto? Sì signora Giovanna Dite Il fatto che è successo Tra i due bambini No Signora Giovanna Ma non c'è problema Quelle sono cose di bambini Se la devono vedere Tra di loro Brava Sì Quello è mio marito Sì sì Ce lo sto spiegando Ma che fa? Lascia stare Non ti arretta No Lui inzuffa Niente Ma addirittura Lo sapete che voleva fare? Addirittura voleva picciare A vostro marito Io? Ma chi? Eh già Ma quando mai? Ma perché dici queste cose? Ha detto la signora Giovanna Non lo vuoi picciare il marito Perché è latitante Mamma mia Non ti preoccupare Ti trovi insa a te Ma che? Capito? Sei tranquillo Ma spiega Non mi fai picciare da quello Ma patatana No